musica 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 vediamo Giorgio con gli occhiali come sta nel vlog ah sono già nel vlog già meglio si tondo come il tuo no tondo piccolo alla Harry Potter ti giuro Nene se mi trovi un paio di occhiali che mi stanno bene saresti tra l'unico per me a Giorgio rimanerebbe all'apoteosi finalmente un paio di occhiali da sole dove potrei scegliere l'orecchino finalmente Gabin ha l'occhiale no non sei tipo d'orecchino tu sai che però l'ho rivalutato parecchio l'orecchino non sei tipo d'orecchino te non staresti bene neanche io ti si vedo no ma infatti non me lo farei mai però non ti si vedo per niente Nene grazie per la calamita coq adesso ti becco in testa ti becco com'è l'acqua soprattutto dopo il ritorno della Scozia fredda? tra l'altro gli unici che non devono mandare dovrebbe essere calda per te un quarto margarita e un terzo armonia detto vai che ti vloggo l'entrata no che cazzo è Uzza? poi c'è corretto un quarto margarita e un terzo botto ah Uzza devo scrivere qui va alle sette ah fresca no io mi stanno mangiando le zanzare sono bastardo anche secondo me anche secondo me vabbè non importa ti ho vloggato le carte Vez ci hai pregato no 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 non ci si può anche niente anche il giorno è il corso cazzo è cazzo è cazzo è cazzo è cazzo è eh come cazzo è grazie siamo per le vizie eh ma lui dopo le mangia mezza sembriamo in scuola lenti ciao ciao Stefi sto sto vloggando come al solito molto di nascosto hai un vlog? hai un vlog? è questa storia della competizione no infatti non ho ancora capito non ho ancora capito se è partita se è parte bastardi tavolica una non ho ancora capito eg pondo chi sei chi ti ha piaci che chi non significa il ricordino si il ricordino cazzo le fantastico beccatevi sto rospo a casa del nene ogni sera c'è un animale nuovo da vloggare che figata ciao rospo trek belissimo ma perché ma perché fa la pipì quando si spaventano aspetta che preparo l'olio non fatemi male mi sono morto voglio preparare non si vede io mi esco da qua è sfuggente è sfuggente è sfuggente è sfuggente allora just nene laleti e zari se ne vanno ciao pug ciao ciao la ale e lale sono tornati quindi ben tornati da scotland scotland amici salutati ah è vero loro sono tornati dal mare oggi ma o ieri ma lui riparte subito sempre per pagno aia ancora rimane sempre anche al mare qua anche giorgio rimane sempre qua vorrei specificare che quando tanto dice abita sul lago nel vero senso la parola io vorrei specificare un'altra cosa che c'è iniziamo con la buona notte silvia New entry Silvia Ah cazzo me le palle Bene From Verona E possiamo iniziare finalmente con la buonanotte Quindi Buonanotte 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 ragazzi Buonanotte